Segui La Sette anche su Instagram. La Sette ovunque con te. Potrebbe essere stata utile da applicare anche in altri contesti? Mi è venuta in mente la crisi di Lehman Brothers, i mutui subprime, crisi dei debiti sovrani? È stato utilissimo, è stato un esempio a cui si è rifatta la classe dirigente europea. Nella frase famosa di Draghi, c'è tutto Roosevelt, cioè c'è l'intervento di uno Stato e di una comunità internazionale che fino a quell'anno invece era ferma. Ogni problema era relegato all'ambito nazionale e soprattutto all'ambito dei giganti economici, con lo Stato a guardare senza intervenire. Direi che la lezione di Roosevelt del 30 è stata fondamentale per poter sopravvivere a tante emergenze, Covid compreso. Noi adesso ci fermiamo per una breve pausa, poi torniamo con il nostro documentario che ci racconta come negli anni 30 l'America prova a reagire alle crisi economiche, facendo da una lezione che portiamo ancora oggi in tasca, documentario di bella dopo la pubblicità. Grazie!